Quest'estate ci aspetta un bel po' di questo. E ancora un po' di questo. Purtroppo molti di noi non potranno tifare così. E allora, perché non far diventare questo il miglior posto possibile per tifare la tua squadra? Quest'estate lavorerò con l'Issense Upgrade Squad per far diventare la tua casa un stadio. Occhi aperti! Potresti vincere! Si è l'Issense Upgrade Squad Si è l'Issense Upgrade Squad